Diego Angelo Guerini è il fondatore e presidente di DuckStyle, che è una società che produce porta menù e coordinati per la ristorazione. Il successo di questa azienda si deve all'intuizione di unire la moda e la tavola. Moda e tavola sono due concetti prettamente italiani e infatti il prodotto di DuckStyle è rigorosamente made in Italy. È anche un prodotto rivolto all'ecologia, infatti si tratta di articoli di pelle rigenerata trattata con collanti vegetali. I prodotti vengono presentati in collezioni come vuole la regola della moda, con un occhio al mercato e alle sue necessità, ma anche offrendo sempre colori di grande tendenza. Unitamente a questi prodotti abbiamo degli accessori sempre di alta moda e design per la comunicazione all'interno dei locali e dei ristoranti. Parliamo quindi principalmente di lavagne e cavalletti. Si integrano perfettamente con tutte le linee DuckStyle. Una novità quest'anno DuckStyle farà moda anche con una linea tessile di alta sartoria realizzata esclusivamente con tessuti di grande pregio. Di questo progetto DuckStyle darà una comunicazione ufficiale nello stile di comunicazione che la contraddistingue in questo settore da sempre.